Luana ha condiviso un messaggio sui social. Caro anno 2024, non mi portare niente. L'importante è che non mi porti via nessuno. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi ci ha lasciati, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Poco dopo, il destino ha colpito duramente, causando un tragico malore fatale a Pierpaolo Colapinto, un cuoco di 32 anni, il suo compagno. Pierpaolo aveva appena concluso il suo turno al ristorante, dove aveva preparato il cenone di Capodanno. Dopo essere tornato a casa, aver fatto una doccia e accasciandosi, ha perso la vita di fronte alla sua compagna Luana. Il giovane di Mesagne, impiegato in un ristorante a Manduria, Taranto, trascorreva i giorni festivi a casa della sua fidanzata. È proprio lì che ha avuto il malore fatale. Secondo la ricostruzione iniziale degli eventi, durante la serata del 31 dicembre, Pierpaolo aveva avvertito dei sintomi, non mi sento bene, aveva confidato ai suoi colleghi. Il sito Mesagne nel cuore ha espresso il dolore della comunità, affermando che il 2024 non poteva iniziare in modo peggiore. Hanno annunciato la tragica perdita di Pierpaolo Colapinto, definendola improvvisa e manifestando incredulità. Nel loro messaggio, inviano le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che erano cari a Pierpaolo. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.